E' stato un anno intenso che ci ha permesso prima di tutto di mettere a punto i modelli tecnici per sviluppare questo sistema, ma secondariamente ci ha permesso di aumentare la diffusione. Siamo partiti da zero, oggi abbiamo superato i 100.000 utenti, abbiamo un target di arrivare velocemente a un milione di utenti. Perché è importante avere molti utenti? Perché questo ci permette di avere dei servizi speed only, cioè dei servizi dove l'unica preoccupazione che noi dobbiamo avere in termini di identità è quella che funzioni grazie a speed, quindi uno ha già l'identità, noi non ci preoccupiamo più del servizio che dobbiamo costruire in termini di identità, ma solo del servizio che dobbiamo erogare quando un cittadino è correttamente autenticato. Per avere una ampia utenza dobbiamo prima di tutto preservare tutte le identità pregresse e per fare questo siamo andati a vedere gli identity provider precedenti che erano già federati fra di loro nel sistema federa e considerando che l'identità che c'erano erano già identità di notevole livello, cioè dove era già stato identificato il cittadino puntualmente, abbiamo previsto dei meccanismi condivisi ma anche accettati da Agide per fare il passaggio e in questi meccanismi risulta estremamente semplice la migrazione perché non è necessario effettuare di nuovo il riconoscimento di viso in quanto si tiene valido il riconoscimento di viso che era già fatto nel sistema federa. Ad esempio sulla parte di fascicolo sanitario abbiamo mandato oltre 400.000 email ai possessori del fascicolo sanitario che avevano federa e che erano identificati con federa e abbiamo tenuto una percentuale di soggetti interessati al passaggio superiore al 25% e sono effettivamente passati oltre il 25% da avere solo federa ad avere anche speed. In questo momento abbiamo lasciato attivo sia federa che speed ma in prospettiva andremo ad eliminare federa e lasciare come unico sistema di accesso speed. Poi ci sono oltre 150 sportelli dove è possibile ottenere nuove identità facendosi direttamente riconoscere e questo numero di sportelli aumenta in continuazione e poi ci sono alcune regioni o comunque territori fuori dall'Emilia Romagna che sono intenzionati ad usare l'epida ID come soggetto per rilasciare le identità, ad esempio la provincia autonoma di Bolzano, ad esempio la provincia autonoma di Trento. Come regione Emilia Romagna e come l'epida abbiamo iniziato a erogare il sistema speed pensando a due elementi fondamentali. La gratuità per sempre che garantisce i cittadini nell'avere un'identità che possono usare appunto per sempre nel rapporto con la pubblica amministrazione e garantisce la pubblica amministrazione nel fatto che avrà sempre a disposizione dei cittadini con una buona identità per far funzionare i prossimi servizi e questa è una filiera e la seconda era la filiera del essere pubblico a erogare un servizio. Non si capirebbe perché abbiamo che le identità analogiche sono erogate da soggetti pubblici mentre le identità digitali potrebbero non esserlo. Abbiamo da sempre sostenuto che deve essere gratis e pubblica. Bene, mi sembra che la amministra Pisano stia andando esattamente nella direzione di gratis e pubblica, quindi ci sentiamo enormemente contenti per questa scelta e stiamo facendo di tutto per essere e rimanere uno dei soggetti che all'interno di questa scelta possono erogare essendo noi da sempre orientati al pubblico e al gratuito. Grazie 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 Grazie